Con l'entrata in vigore del decreto del governo che ha chiuso almeno un terzo delle aziende in Toscana come misura di contenimento del coronavirus, i servizi di trasporto pubblico locale sono stati ulteriormente ridotti. La regione toscana ha comunque ottenuto che i treni e gli autobus siano comunque garantiti per tutti coloro che, impegnati in aziende e attività che producono beni e servizi essenziali, devono comunque andare a lavorare con particolare riferimento agli operatori sanitari. La nostra bravissima ingegnere è stata in contatto con le chat dei pendolari, con le richieste che sono venute da parte delle mail e del numero verde per cercare di segnalare a Trenitalia tutte quelle che sono le esigenze per rispettare appunto questa ordinanza e questi collegamenti. Mai come nell'emergenza coronavirus è emersa l'importanza di internet. Grazie al decreto cura Italia del governo si è sbloccato un contenzioso fra lo Stato e la TIM e, su pressione della regione toscana, l'Agicom ha sbloccato l'attivazione di 259 armadi ripartilinea in 68 comuni della Toscana entro aprile. In altri 10 comuni invece è stato trovato un accordo tra regione, infratel e TIM e 139 armadi saranno attivi da subito e altri 28 entro giugno.